Bagnini marchigiani nel caos dopo la circolare Inail che aumenta la distanza tra ombrelloni proposta dalla regione. Intanto Ceriscioli conferma la stagione. Partirà il 29 maggio. Annalisa Serpil. 3 metri. La distanza tra una fila e l'altra di ombrelloni è quella prevista dalla regione Marchi in accordo con gli operatori balneari. 5 metri invece quelli consigliati dalla circolare Inail. È caos per i Bagnini marchigiani alle prese con la sistemazione degli arenili in vista della partenza della prima stagione estiva sotto pandemia. Sul tema Inail regionale ribadisce quanto affermato in sede nazionale. Le disposizioni in materia di distanza degli ombrelloni, sicurezza del personale e sanificazioni hanno un valore di raccomandazione. Una raccomandazione però condivisa da Istituto Superiore di Sanità e validata dal Comitato Tecnico Scientifico sulla quale il Governo dovrà esprimersi. Ecco perché da due giorni si discuta Palazzo Raffaello. La circolare in 18 pagine ha infatti raffreddato l'euforia della scorsa settimana quando l'assessore al turismo Pieroni aveva presentato le linee guida per consentire la riapertura dei balneari. Ieri la prima riunione tecnica a cui hanno partecipato la dirigente Asurna di Astorti, il direttore Inail Contenti e l'assessore alle attività produttive Emanuela Bora. La regione per ora ha dimostrato di non voler arretrare e di recepire soprattutto la parte dedicata alle prescrizioni sulla sicurezza dei dipendenti. Ma un provvedimento che diverga troppo dalle linee guida allo studio del Governo rischia di esporre a sanzioni i piccoli imprenditori del settore turismo. Una lieve apertura c'è stata nel pomeriggio quando il Presidente Luca Ceriscioli ha annunciato di aver individuato proposte integrative o facoltative per i balneari confermando comunque l'avvio della stagione estiva il 29 maggio. E proprio queste integrazioni saranno oggetto domani di una giunta straordinaria su un tema che si conferma ancora liquido.